Ci sono situazioni, incidenti o effetti, magari non voluti, che raccontano limpidamente e impietosamente tutta la verità. È successo ieri a Palazzo dell'Aquila, quando il sindaco di Ragusa ha voluto presentare alla stampa i suoi due nuovi collaboratori per la comunicazione. Cassi quindi ha convocato la stampa per far conoscere alla stampa le nuove risorse, che per conto del comune avrebbero aiutato la stampa a fare meglio il proprio lavoro di informazione libera e critica come il nostro ordinamento prescrive. Ma sempre Cassi alla stampa ha vietato di fare domande, un paradosso tanto grave quanto greve che racconta molto più del disappunto e dell'imbarazzo che sarà calato nel momento in quella stanza di Palazzo dell'Aquila. Anche perché questo infortunio accadeva mentre Cassi aveva al suo fianco coloro che egli ha assunto e che presentava nel loro ruolo, proprio al fine di mettere la stampa nelle condizioni di poter esercitare al meglio la propria funzione di testimone libera, critica e veritiera dei fatti di interesse pubblico che dovrà raccontare. La conferenza stampa non è comunicazione unilaterale, è momento di servizio per comunicare una notizia e consentire alla stampa, appunto, invitata a chiedere, osservare, approfondire. Sicuramente i due collaboratori prescelti avranno tempo e modo di farlo presente all'amministrazione comunale. Compatibilmente c'è da presumere con la gratuità del loro incarico. E sì, perché a Palazzo dell'Aquila sono dei volontari, anche se ieri testimoni, forse involontari, del paradosso che vi abbiamo raccontato. Ma questa è un'altra storia.